allora è finita da un'oretta la partita l'ultima partita odierna della serie A tra il big match tra la Juventus e la Roma vinta questo big match è stato vinto dalla Juventus vabbè ragazzi la Juventus ha iniziato a vincere vince giocando male anzi a tratti malissimo la Juventus gioca molto male a un gioco che a me non piace il tipico gioco di allegri il gioco andiamo avanti a fortuna fino a quando la fortuna ci assiste fino ad ora li sto assistendo come è assistito anche abbastanza bene oggi Orsato perché a parer mio ha fatto una cazzata abnorme Orsato ma tralasciamo adesso quella cazzata che comunque ha un qualcosa anche di clamoroso perché Orsato ormai ci ha abituato a queste a queste genialate e genialate della domenica specie quando incontra Juventus e come se risorga dalle sue ceneri e faccia queste stronzate simili ma tralasciando adesso Orsato parlando della partita ovviamente sì i giocatori a Roma possono recriminare anche su quel errore di Orsato ma di certo poi quando tu sbagli anche un rigore un rigore che ti viene dato lo sbagli e quindi comunque è anche colpa tua non è che te la puoi stai a prendere solamente con un arbitro oppure col destino che ha voluto che tu perdessi una partita che magari meritavi anche di pareggiarla o se non di vincere per dire non voglio neanche troppo esagerare ma la meritavo anche di vincere a Roma che a Juventus ha giocato malissimo a Juventus gioca come sempre soltanto che adesso gli va bene vince 1-0 non prende gol insomma ecco gli sta riandando bene ecco sta ripartendo comunque la squadra con le vittorie anche se il gioco è pessimo però ripeto uno troppo prendere con l'arbitro che magari ha sbagliato quella decisione magari che ha fischiato prima che ha fischiato prima il perché non si capisce perché abbia fischiato prima questa cosa non si capisce però non potete accostare l'errore anche del rigore perché se vi da un rigore quando state sotto 1-0 e lo sbagliate non lo so io poi comunque ecco anche quei tre minuti di recupero 4-5 cambi hanno fatto l'evento nel secondo tempo non avrebbe potuto dare un pochettino di più di recupero ma a conti fatti la Roma non doveva perdere a premio la Roma purtroppo non doveva perdere cioè purtroppo perché comunque per la mole di gioco che ha fatto di certo non ha meritato la sconfitta poi come è uscita la sconfitta con un rigore sbagliato quindi anche autolesionisti sono stati nonostante il bel gioco poi si mette quell'errorino di orsato e niente quarta vittoria di fila per la vivendus adesso la vivendus sta a 2-3 punti dall'inter comincia comunque a risalire abbastanza la gira anche se poi il Napoli non frena neanche il Milan solo noi abbiamo frenato sicuramente un bel campionato perché sicuramente ritroveremo anche la vivendus nelle posizioni alte anche se per l'ultima volta ve lo dico e lo ripeto e qui lo ripeto e lo ripeterò sempre la vivendus fino ad oggi ha mostrato un gioco scadente ma realmente scadente e sta vincendo per situazioni che si creano ma non per il bel gioco o per altro il resto comunque complimenti alla Roma anche se quel rigore non lo deve sbagliare complimenti non ha giocato male Molinio ha dimostrato di fare un bel gioco ma la partita è finita comunque 1 a 0 per la vivendus ciao a tutti grazie mille